Esu moro a censurize, dosa, dosa, taso, plusa, plusa, chapi, pulsa, top, eh, eh Esu moro a censurize, dosa, dosa, taso, plusa, plusa, chapi, pulsa, top, eh, eh, eh No moro a censurize, dosa, dosa, es te non chiesi a posizione che c'è, srang, taso, plusa, eh Tebbi, guste, angiati, angiati E tu pati ases? Ie, chasca cha Guste, angiati, angiati, angiati Ah, Benno, tu ghiotes, e'n kior patkutaki zera khid merhe rachosatave, ara Yes, champtave Galeris, mega tu ghiotes, tu ghiotes Asi ma arta ghorzi zgaali satun Ma ike en veric haanuma ase maka niko len yoda ber Yoda berume ase ma demeshkis vera kaletkara Asi ma iinchi iman ase ma arrak iman ase Asi ma arac iman ase haanum përtsanuma ase ma aracisi Asi ma dati veleweisharka hamara kalem neki eci mei chavuthe Hamara kalem përtsanuma ase ma hamara kalem ase ma Asi ma dati miuski iesne al ase ma a b c d e ee, ee, ete en c haamarakalelo vici Asi ma la vete l aracisi heetu E' un'altra cosa, mi vede chiamata il mio quarto. Non fai una bambina, non fai una bambina. Il mio ragazzo è iniziale al tuo concerto. Il mio ragazzo è il ragazzo il ragazzo. Non mi ha mai, non mi ha mai mai. Non mi ha mai mai mai, mai 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 avuto. Non mi ha mai 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 il ragazzo è un ragazzo? Ancora Ora, ora sì, se non è la mia vita, ho deciso di essere statile. È un attimo, dunque non è lato, dunque non è tutto nazista. Ma non è la mia vita, è la mia vita, io ho un attimo. Mi viene bello, ci sono chiamati, che mi viene aée visita, che mi accettano le doggie, che mi di me volto, la comissà la mano che mi ha guardato, non è la proposta di un bel' nocino, in realtà le vissere, non lo so. Tu ti esatti di Kundera, ma Arun stockati i.e. è sonato di risultato ma ci sono più good overdue tempo di quelle'e sono piaci e molte imper isn'todelale a ca misura si dimentimana se si vuole una prima e di per rispondi non mi sembra non mi sembra per rispondi non mi sembra solo non mi chiamo la vi una ghiere abbiamo altre久 fa non è uscita e li aiutato se non mi chiede la mia auto non mi sottuva che era la scuola non mi sentiria più capo ma non hanno verse quando una già inizia si facciano se non ci sono non c'è ma poter il cった non ci sono che non ci sono che c'era la sua donazione, non è che ero, che ero, mi sono sentito, se non mi sono coloco, non mi sono mai molto ieri. In realtà, si senti qui, non mi sono ancora ieri, mi sono accionato a quel tempo che ero, anche se senti a un po' da, andiamo a un po' che ho, e se non si sono ancora, è il fatto che erano, è un po' che gioco, non mi sono tutto, che erano, se senti a un po' che gioco, è uno di gioco a un po' che gioco, e lui è piaciuto, non mi sono rascolti, è un po' che ha detto, non mi sono ancora, ma non mi sono tenuto, ci sono ieri, ... ... ... ... Rii, no, non è fissuto, mi sono mai fatto? No, non è così. Poi il duccio in cui questa tutelina o pace è che il divorzato, l'luccio, che si deve risponere che è riconoscuto a tutti... ... l'aria di non trovato? Mi fanno passano è fatto in cui paio non è successo, ma non è necessario di essere con il caso, mi sembra l'evolta. T거 di essere, no, ti occhi? D'accordo, sono è successo. Garne di essere l'evolta a testo, è deciso a te farlo Sì, nella mia vita, non si vengono, puoi fare da a sé che levi non poteva, non per me li ha detto se la meta di chiusa, ma il vi levi non poteva a fredre qui poかterò che gli è uccerto ma inizia. Si non per me vi aspetterebbe, intuò che crede fosse così. Io vedo una lontu al giorno, ritengo un po' che m'asso, ma non si non può essere. Ma dunque, l'esci, mi ha detto il fatto che non si rargo, non ci rargo, non se rargo. E il tuo senso, io sono un po' chego, un po' chego, ... l'imatico d'un certo che non è venuta vê la biancola, perché io vi 12 anni a un po' rowe a un po' di più iniziano, comunque non mi sentia il caso però. un po' traộtre modo, però io ho entretto, a faccio il punto di togolino, l'ho processo di togolino, ora io sono una riscocche, ma siamo iniziano rispetto a me, ma senti a me, perché io sono un po' di, a me è l'obiettico in micha, ho senso, freda, ... ... ... ... ... ... e quando scuoni ho con mano a santo pono che Pittulino a fare una persona e l'ho awerti che 1 un solo a santo a santo a d'iezermi un po' a santo a santo l'am Il giorno giovo giù l'uatro di saluto Marano al lavoro l'è stato il posto, quindi lui domini sembrava molto assie intento però d从ci a dolore che ci sono un po' checchino, che ci sono un po' checchino. che ero come nel caso di il lancio il dibattimento del rapo l'eusio è detto che va fare ti così inizio un bel momento non è detto di non che non mi ha informato che ne vediamo che mi chiamo dimostrò che si mi chiamo a vero il nostro cuore il nostro mi pare il nostro piatto il nostro piatto quandoلم I ermi ricordati sono來, rispondendo il per il secondo. Se che scusè io era rimatto e per il rispondendo in mezzo. No, non. No, non mi face ricordo aɣe, c'è un'es aes, 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 aedì, tengo eh, aes, aes, aes mi, aes, 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 aes la, aes ti aore ergo, uai ti ha. Adolfano, si la mi ha to dare a un sale pare, qui完全 non simili l'ho che era che era l'ho che era e non è un certo che abbiamo detto a quel modo, dove andiamo a la sua regola? E ecco il viore, erano che venissero un po' non esplosso, e veniamo a una risposta. Ma è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa. Non lo verano, non è un'altra cosa, non è una cosa che è stata la sua, non lo verano. Non lo verano, un Bisogna che nessun posto dicono, io ho lui, non sopprano che non soppro, e io ho sapevo molto..." Non sopravano, e io ho non sopravano, e io ho lasciato, ma il risultato come che non le sopravano, io ho lasciato a una persona, e io ho sopravano, lui ho fare lo a un contestato, e io ho lasciano aciato… Tutto a me inizia… Non sopravano, mi sono amici, Sì, perché non è vero? che ci sono un po' checchino, che ci sono un po' checchino. qu'è un'niches annum? Unres! Sì. 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 Sì.